Parte la nuova sfida, decima edizione di Cuore Amico, la macchina della solidarietà ingrana la marcia e torna a correre. Una corsa che in realtà non si è mai fermata, ma che in questo momento ha bisogno di tutto l'impegno dei Salentini per i Salentini. Lo ha ribadito il comitato promotore di questo grande progetto Onlus durante una riunione programmatica nel Salone di rappresentanza della provincia di Brindisi, alla presenza di autorità civili e militari. Il presidente stesso di Cuore Amico, Paolo Pagliaro, ha racchiuso in poche ma efficaci parole il senso e il significato della mission di Cuore Amico, che in dieci anni è saputo essere al fianco delle famiglie, dei loro bambini, frantumando il muro della diffidenza e raccogliendo la comunità attorno a problematiche che oggi, proprio grazie a questa associazione, uniscono invece che dividere. Ed il lavoro che è stato fatto in questi dieci anni per Lecce e tre per Brindisi ha consentito ai nostri territori di integrarsi sempre di più. 419 casi risolti, ai quali si aggiunge anche quello di una bambina di Francavilla Fontana, che nelle ultime settimane ha chiesto un aiuto urgente. 3.237.692,96 euro i fondi raccolti, 96 le auto donate per il trasporto dei diversamente abili, numeri che danno il senso alla dimensione della solidarietà dei Salentini e dell'impegno di Cuore Amico, che nella sua attività si è sempre affidato a due soli principi, la concretezza e la trasparenza. Con questo spirito, lo stesso Comitato Promotore, ma anche le stesse istituzioni, Comune e Provincia, che hanno sposato il progetto, si preparano a vivere la nuova edizione. Questo è un progetto che si sta radicando nel nostro tessuto sociale. È un progetto straordinario che io sono qui non soltanto a testimoniare, ma a caldeggiare e a trasferire col cuore, con l'intelligenza a tutti i cittadini. Io ho iniziato la mia attività amministrativa proprio con Cuore Amico, tra l'altro. E quindi devo dire che è stato un piacevole incontro. Ma la cosa più bella poi è stata aver coinvolto in tutto questo anche i bambini che dovevano aiutare gli altri bambini. Siamo tutti pronti per avviare questa decima edizione. Siamo tutti abbastanza convinti che anche quest'anno riusciremo a fare bene, come per gli altri anni. Il gruppo Aligros, la Banca Popolare Pugliese, il gruppo Mixer Media, pronti quindi a scendere nuovamente in campo. E quest'anno, tra l'altro, con un nuovo obiettivo. Quest'anno abbiamo come importante novità la decisione di istituire il 5x1000 che abbiamo raccolto in questi anni per costituire sul territorio una struttura che possa servire proprio all'utilità di queste famiglie, sia per l'intrattenimento anche ludico di questi ragazzi che il riabilitativo. Ed allora tutti in corsa verso un nuovo traguardo, verso nuovi sorrisi da conquistare.